Di tutti i gusti, l'amaro è certamente uno di quelli a cui il nostro palato va più educato. In natura, infatti, una pianta amara, in molti casi, è anche velenosa. Un'informazione impressa nei nostri geni che non ci ha però impedito di sviluppare una forma adulta di predilezione per questo gusto, che rappresenta una delle basi della nostra cucina popolare, soprattutto per via dell'impiego di arebe spontanee o di radici fortemente caratterizzate da esso. Tra i prodotti che hanno nell'amaro una delle loro caratteristiche prioritarie, un posto d'onore spetta certamente al radicchio. Questa verdura invernale, diffusa soprattutto nel nord Italia, è in grado di raggiungere livelli di amaro decisamente intensi, che vengono normalmente smorzati con l'impiego di condimenti acidi, primo fra tutti l'aceto di vino. In Friuli Venezia Giulia, e in particolare negli orti urbani della città di Gorizia, da secoli si coltiva un radicchio che, oltre che molto buono, è anche molto bello e che per via del colore, un rosso scarlatto intenso e della forma, che ricorda quella di un bocciolo leggermente schiuso, è chiamato la Rosa di Gorizia. Pur nota e apprezzata da secoli, la Rosa di Gorizia ha rischiato di scomparire, soprattutto per via della mancanza di territori destinati alla sua coltivazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, il territorio della città è stato diviso in due, tra l'Italia e la Sdovenia, e gran parte dei terreni, un tempo a vocazione agricola, sono stati reimpiegati con altri scopi, riducendo a poco più di due ettari, la porzione di terra destinata a questo ortaggio così significativo per la tradizione locale. Interessante è certamente il metodo con cui la Rosa di Gorizia veniva coltivata. I semi di questa insalata, infatti, accuratamente selezionati negli anni perché venisse valorizzato l'aspetto e la resistenza al freddo, venivano sparsi durante la primavera sugli stessi terreni in cui erano messi a cultura cereali, tra i quali l'avena. Era questo un modo per rendere particolarmente remunerative zone di produzione dalle quali si poteva ottenere un reddito tutto sommato basso. Lo sviluppo in consociazione con il cereale per il radicchio era particolarmente importante, per due motivi in particolare. L'avena, più alta, era utile a proteggere la piccola pianta di radicchio dalla luce del sole, che avrebbe altrimenti rischiato di bruciarlo, e poi il cereale era in grado di competere con altre piante infestanti, limitandone allo sviluppo e favorendo quindi la crescita della rosa. Dopo lo sfalcio dei cereali è il radicchio a prendere pieno possesso del campo. A ottobre raggiunge la dimensione ideale e le foglie, prima di un colore verde intenso, virano verso il caratteristico rosso. È in questa fase che va anche formandosi il cuore del radicchio, che è la parte più interna e tenera, ed è quella che viene effettivamente consumata. La raccolta avviene a novembre, quando le temperature si fanno più rigide. Le foglie più esterne, che hanno protetto la rosa dal freddo, vengono a questo punto eliminate e solo la parte interna, croccante e saporita, è destinata al consumo. Il modo più tradizionale per consumare il radicchio è una semplice insalata, chiamata l'idrich culifricis. Dopo aver pulito il radicchio, lo si mette in una ciotola e lo si condisce con sale, olio extravergine e aceto di vino rosso. Nel frattempo si fa sfrigolare in una padella di ferro o antiaderente del lardo leggermente battuto, che una volta croccante viene aggiunto all'insalata.